Questa è questa? Eh, non c'è scritto Pronto? Eh, non so, c'è questo numero sul mio telefono Eh, volevo chiamare lo studio dentistico della signorina Susanna Gagliardi Eh, sono il mio, sì sì Eh, io volevo effettuare... Io sono Marco Colacrossi innanzitutto E volevo effettuare un trattamento esterico ai miei denti Cioè, io vorrei, dal momento che comunque ho molti soldi Volevo investirli in qualche modo E di darli ai miei parenti sinceramente a me non va Quindi me li voglio tenere addosso ai miei soldi E vorrei mettermi tutti i denti Sostituirmi i miei denti bianchi Staccarli tutti quanti uno ad uno magari con una bella anestesia E metterli tutti quanti d'oro con 24 caratri Proprio per niente, scusi, eh Non è il primo dentista che chiamo e che mi fa questa cosa Però se lei vuole attaccare, non lo so, faccia come vuole Io non so che dirle Io ho chiamato molti, già molti dentisti E tutti quanti mi sta prendendo in giro E ho detto, eh, lo so, ma io voglio differenziarmi da tutti gli altri Che hanno i denti bianchi Io voglio avere essere uno dei pochi uomini al mondo che ha i denti tutti quanti d'oro Eh, signora Beh, però, eh, sa che c'è che uno fa i lavori in cui crede E un lavoro in cui non crede non lo fa E quindi anche io le dico, ci riguarda il dolore Ma, signora, eh, ma l'oro, poi, volevo chiederle, anche per curiosità, così Averlo in bocca, com'è? Cioè, che impressione dà avere l'oro in bocca? No, ma c'è, non si sente bene Scusi, non si sente bene Scusi, non sto sentendo niente, scusi Scusi? Scusi, non sto sentendo niente